Sono sulla cima delle Dolomiti e francamente pensavo di trovare un partner di sigillo sicuro perché mi dicono siete talmente professionisti che perché non siete in tutti i posti d'Italia? Beh, lo scopriremo oggi in questo video. Ciao, oggi sono qui sulla cima delle Dolomiti come puoi vedere e mi sono fermato un attimo perché ci tenevo troppo a fare questo video. Infatti ogni tanto qualcuno si lamenta perché i partner di sigillo sicuro non sono in tutta Italia sono solo in alcune zone e oggi voglio spiegarti perché. Il servizio che vuole dare sigillo sicuro è di alto livello. Infatti vogliamo supportare il cliente non solo in fase di sopralluogo e di installazione ma soprattutto nel post vendita. Allora ti faccio un esempio. Installato un impianto dopo un po' inizia a perdere qualche goccia, un raccordo in un'attubazione all'interno della centrale termica. Se l'installatore dista 100 km da casa tua, quindi ha fatto meramente l'impianto e poi è andato via, mai poi mai verrà di corsa per sistemarti quella goccia, cioè ci verrà ma appena avrà altri lavori da fare in quel territorio. Ecco, per noi invece questo non può esistere. Il nostro partner deve darti un supporto velocemente anche se si tratta di una semplice perdita d'acqua in centrale termica. Ed è per questo che non possiamo ovviamente essere in tutto il territorio italiano. E perché? Perché in sigillo sicuro lavorano professionisti, quindi aziende specializzate, che hanno fatto un percorso di formazione, che hanno superato un esame e che si sono specializzate nel settore delle pompe di calore e vogliono garantire al cliente finale, alle famiglie, un servizio di alto livello. Ecco, qualcuno mi ha anche scritto, ma se siete talmente professionali, perché non siete in tutti i posti d'Italia? È proprio lì. Essendo un prodotto particolare, un servizio di alto livello, non puoi trovarlo ovunque. Non c'è una distribuzione di massa come per gli altri prodotti e per le altre soluzioni, ecco, perché altrimenti non potremo garantire quello che noi pretendiamo dai nostri partner. Ecco, non esiste in Italia una classifica di professionisti, dove posso vedere quali sono i più bravi in una provincia rispetto a un'altra. L'unica cosa che vale è l'esperienza sul campo. Perciò non arrabbiarti se ti diciamo che non c'è un partner nella tua zona, perché non esistendo questa classifica non possiamo scegliere noi i partner per ogni provincia, ma deve essere un'azione volontaria. Quindi i partner che magari incontra il nostro percorso decide di intraprendere un percorso ultraprofessionale per specializzarsi ulteriormente nelle pompe di calore. Non possiamo forzare noi, un installatore, ad entrare nel nostro mondo. Perché? Perché poi non ti darebbe quel supporto che noi pretendiamo e che tu, come cliente finale, giustamente pretendi. Pensa che l'altro giorno qualcuno mi ha scritto che alla fine siamo come la commerciale del suo paese che vuole vendere a tutti i costi i loro prodotti e basta. No, è l'esatto contrario. Credimi che faremo molti più soldi se pensassimo di spedire le macchine senza avere un partner in zona e poi tu ti dovresti arrangiare col tuo idraulico del paese. Invece no. Noi diciamo di no perché il partner è una pedina fondamentale in tutto il nostro processo di sigillo sicuro, cioè in tutto il processo di staccarti dal contatore del gas. Ora riprendo il mio cammino ma non arrabbiarti se riceverai il messaggio che non c'è un partner nella tua zona perché purtroppo non dipende solo da noi. Ad ogni modo comunque ci sono dei periodi dell'anno in cui facciamo dei colloqui per accettare nuovi partner che entrano nella nostra rete e quindi nella descrizione del video trovi sia il link che le date in cui sono aperte le iscrizioni. Con questo ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!